E' da tempo ormai che le farmacie hanno decisamente stravolto il loro classico rapporto con gli utenti ed i pazienti. Da dispensatori di farmaci e preparazioni galeniche o consigli su come affrontare i malanni passeggeri o quali siano le soluzioni più appropriate da seguire, avere i centri di servizi per la salute dei cittadini. Una sterzata decisa verso il nuovo ruolo del farmacista e della farmacia, sempre più orientato alla consulenza e ad offrire tutta una gamma di servizi che vanno dalla semplice misurazione di parametri come la pressione arteriosa, la glicemia, a vero e proprio anello di conciunzione con la sanità pubblica. A questa nuova frontiera si rivolge l'Assofarm e la Federpharma che stanno dialogando con la Regione Marche su nuovi sviluppi del già consolidato accordo di recente anche ampliato per la distribuzione dei farmaci ospedalieri ai pazienti che ne fanno uso in tutte le farmacie del territorio. Sì, il CUP diciamo in tutto questo lavoro che stiamo facendo di programmazione è un obiettivo che sembra molto vicino ad essere raggiunto. In accordo con la Regione entro l'anno dovremmo riuscire a fare questo passo, siamo lì proprio in fase di aggiustamento tecnico. La parte politica l'abbiamo già raggiunta, non è solo il CUP per la pronotazione e per la disdetta delle eventuali visite specialistiche che troverebbe un giovamento anche dal punto di vista della riduzione delle liste d'attesa perché il 25% delle visite non vengono poi effettuate e quindi essendo il farmacista tra virgolette pubblico o privato che sia o delle comunali o delle private un farmacista che molto spesso diventa un amico, il farmacista di famiglia, quindi c'è più, mi hanno visto in altre regioni c'è la tendenza maggiore ad andare anche a disdire e quindi rimettere in circolo quella visita che altrimenti andrebbe perso. Vogliamo però portare ulteriori servizi, cioè metterci al servizio della sanità marchigiana sulla prevenzione ad esempio quindi con tutta una serie di screening che possono essere fatti, la telemedicina, la refertazione, vai dallo specialista ti deve dare l'esito della tua visita, vai oggi solo negli ospedali a ritirare e a pagare tra virgolette il ticket della visita se necessita se vai in porto l'accordo con la regione così come lo stiamo costruendo tutti questi servizi li potrai trovare in farmacia, nella farmacia sotto casa. La nuova frontiera sulla quale si sta puntando per le farmacie sul territorio sarà quella di svolgere le funzioni di un vero e proprio CUP. Grazie